Amici, oggi come avrete molto probabilmente letto dal titolo, diciamo che è una giornata molto triste, molto nefasta, per dirle in due parole, una merda. Ma perché vi starete chiedendo? Perché, come molti hanno visto, o meglio glielo ho detto in live, quindi seguitemi su Twitch per gli spoiler e link in descrizione, il mio mondo vanilla di Minecraft, quello che tutti amiamo che era arrivato finalmente al quarantesimo episodio, è morto per sempre. Ebbene, sì signori, è morto per sempre il mondo di Minecraft, non riesco più a recuperarlo, ho fatto copie e tutto, proprio non mi parte, basta, è andato. E mi si blocca sulla schermata di caricamento, che molto probabilmente vi starò facendo vedere adesso, quindi dato che voi siete molto più esperti di me, questo video durerà due minuti, quindi spero ve lo stiate vedendo fino alla fine, oh mio dio, lo sto rispendo. Che cacchio rido che mi sia rotto Minecraft. Se sapete un modo per recuperarlo o fare qualcosa, soprattutto se giocate la Play, vi prego, fatemelo sapere, se non lo sapete va bene lo stesso, ma se lo sapete va molto bene. In ogni caso avevo in mente due idee, idea numero uno, no l'idea numero uno è stupido, avevo in mente solo un'idea, ovvero ricominciare nuovamente la serie vanilla, sto giro molto più esperto e molto più cazzuta, però sto giro da PC, ovvero con la Java Edition, che magari è anche meglio, così mi alleno anche col PC. Fatemi sapere se è una buona idea, perché la PC aveva in mente anche di metterci tipo le shaders, quelle soft, poi guardo quali mettere. Non lo so in caso fatemelo sapere voi, ah tra l'altro vi invito proprio malamente a scrivermi una mega F in maiuscolo nei commenti, perché sì, credo che ci stia molto bene, spero che questo video sia durato più di un minuto e credo proprio che lo caricheranno alle 7. Quindi dopo essermi spammato su Twitch, il link in descrizione, questo si era il coso del link, fatemi sapere tutto, vi ringrazio per la visione, ci vediamo domani alle 7, molto probabilmente, oppure alle 3 in live su Twitch. Bye!